Per la prima volta con le nostre telecamere stiamo entrando all'interno del canile comunale di Muratella per conoscere la storia di chi lavora all'interno della struttura ma soprattutto per conoscere le storie dei cani che sono ospiti del rifugio. In realtà entrare a Muratella per chi è particolarmente legato al mondo degli animali è un colpo al cuore. Non è facile aggirare per la struttura e vedere ovunque i cani nei box. Ma grazie al grande e costante impegno dei dipendenti e dei volontari i cani riescono ad avere il più possibile una vita dignitosa e serena fatta di passeggiata all'aria aperta e l'affetto del personale. Fortunatamente poi rispetto agli anni passati il numero degli animali nella struttura è decisamente diminuito. Rispetto agli anni passati dove prima c'erano mille cani all'interno di Muratella oggi me ne sono all'incirca 400 perciò siamo andati in netta diminuzione questo vuol dire che gli animali, che i cani escono dal canile che vengono adottati dalle famiglie che ovviamente poi donano il loro amore e sicurezza rispetto a prima dove gli animali purtroppo invecchiavano e morivano all'interno della struttura. Federico da 16 anni con dedizione e passione lavora nel canile di Muratella. Ci siamo fatti spiegare come funziona la vita nella struttura, il trauma che vivono i cani quando vengono abbandonati, il loro percorso di rinascita, le difficoltà e le gioie delle adozioni. Sostanzialmente dobbiamo accudire gli animali che entrano qui in canile, dobbiamo fare in modo che la loro permanenza sia la migliore possibile. Il cane presente a Muratella è un cane di taglia medio grande, un meticcio sostanzialmente abbandonato, c'è il cane ferito, il cane malato, c'è il cane sequestrato per maltrattamenti e noi dobbiamo fare in modo che tutti possano essere seguiti, curati, che possano vivere una vita più possibilmente dignitosa considerando che comunque stanno in un canile. L'adozione è un momento straordinariamente importante. Non dobbiamo consigliare male la famiglia per quanto riguarda la scelta di un cane piuttosto che un altro, ma dobbiamo far trasparire e far venire la consapevolezza di un cambiamento di vita. Ci sono cani che per canoni morfologici, quindi estetici, colore del manto, la grandezza, sono fatti che condizionano molto l'occhio del potenziale adottante. Anche problematiche di livello comportamentale possono ovviamente creare delle difficoltà. Sostanzialmente i cani più richiesti sono i cuccioli o i cani di piccola taglia. I meno richiesti sono i cani di medio-grande taglia, meticci. Nei prossimi giorni seguirà la seconda parte del nostro viaggio a Muratella. Vi faremo conoscere la storia di alcuni cani che improvvisamente si sono trovati catapultati in questa realtà. Capirete che c'è un filo conduttore, il fallimento dell'uomo.